Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. Traffico per il momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della regione toscana. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero tratto chiuso a causa di caduta massi all'altezza di Giardinetto nel comune di Bagni di Lucca, viabilità deviata sul posto e senso unico alternato per una frana tra Popiglio e La Lima. Sulla FIPILI personale su strada nel tratto compreso tra Empoli-Ovest ed Empoli in direzione Firenze. Sulla statale Trebis-Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Valsavignone e Canili in direzione Ravenna. Buonarsi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!